Ragazzi, oggi abbiamo un nuovo schema. Per questo schema servono tanta velocità in più, tanta relatività in più, tanto controllo e tanta potenza. E per provarlo abbiamo un nuovo giocatore che lascia lunga. Ed è inglese. No! No, 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 dai, niente, niente, non voglio poter fare. Andiamo, andiamo, forza! Loro pensano ancora alle Jaguar di una volta. Adesso invece trazione integrale permanente, ripartizione di coppia con regolazione sportiva, adattività al coefficiente di aderenza. Se ne accorgeranno presto di cosa significa. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Dai ragazzi, non fate così. Ho capito che vorreste la XF in squadra per tutto il campionato, ma adesso dobbiamo proprio andare. Magari ne riparliamo per la prossima stagione.